Signora, se lei è già ingrassata di un chilo, non va bene, va bene, comunque ci vediamo allo studio, arrivederci. Buongiorno. Buongiorno, dottor Filadelfio Grasso, dietologo, come dicevo il nome, fa pensare Grasso. Lei come si chiama? Io, Gianfranco Losicco. Lei, Losicco, insomma, anche lei. Vi dico un po', lei quanti anni ha? Sono nato il 26 agosto, si faccia il conto. Senti, a lei quanto pesa? Non lo so, non lo so. E guardi, lì c'è la bilancia, salga su e mi dica il peso. Che numero c'è? 11,1 kg. E che cos'è un bambino? No, no, venga qua, si secca, si secca, venga, venga, si accorta. 111 kg. Essere mai, ma sarà l'abbigliamento. Sì, certamente, è possibile. Guardi, lei ha intolleranze? La mia famiglia, non ne posso più, me ne voglio andare. Intolleranze alimentari? Sì, no, no, vabbè. Lei è vegano o vegetariano? Più vegetariano. Infatti io mi alimento molto di pollo, di crapetto, queste cose qua. E chi si dice, i vegetariani mangiano solo verdure, non mangiano carne. Ma mangiano solo erba, verdure. E appunto, appunto, la pecora mangia l'erba, la gallina mangia l'erba, vuol dire che quelle carni sono carni erbivore, mi perdono. Io posso mangiare. L'osicco, non funziona proprio così. Guardi, lei svolge attività fisica? Molto, molto, molto. Tutti i giorni al lavoro è solo attività fisica. Cioè, che lavoro fai? Io sono uscire alla regione Sicilia. E l'attività fisica dove? Sì, quando io andavo a pagare l'erba, con 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 l'erba. Sì, sì. Senta, signor L'osicco, mi vuole dire la sua dieta giornaliera come è composta? Per esempio, lei a colazione, la mattina, cosa mangia? Faccio un poco dolce, un poco salato. Cioè? Un'arancina, una pezzetta, una cipollina e un cornetto, però il cornetto è integrato, senza niente. Ah, certo, per compensare. Comunque il cornetto si dice integrale. E il caffè senza zucchero. A pranzo invece cosa mangia? Solo pasta. Un piatto di pasta, e ci ho detto pure a mia moglie, siccome voglio dimanire, dimenza la quantità della pasta. E l'abbiamo dimensata. E quanto ne mangia? 250 gatto. 250? Perché prima ne mangiava mezzo chilo. Solo pasta mangiava. Alla faccia. E la sera cene invece cosa mangiava? Niente, latte. Levo una tazza di latte e quattro bocconcini. Una tazza di latte con quattro bocconcini piccoli. I bocconcini che compro io sono così. In questo caso quelli sono quattro filoni. Il mio palentiere li chiama bocconcillumi. No, 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 non va bene così. Allora lei adesso seguirà questa dieta che dico io. Dunque lei deve mangiare cinque volte al giorno. No, questa è una cosa che mi fa piacere. La mattina a colazione lei deve mangiare due fette biscottate con un tè molto blando. Va bene? Ma le fette biscottate me le posso mangiare tutte insieme? O me le posso compareggiare le fette biscottate? No, le fettine le puoi intingere nel tè e se le mangia. A metà mattinata lei mangerà dieci mandorle. Dieci, dieci. Non più di dieci. Nove sì, undici no. Non mi sbaglio assolutamente. A pranzo lei deve mangiare cinquanta grammi di pasta con due gocce di olio evo, con due gocce. Dato che sono cinquanta grammi non c'è banco bisogno di fare bollire l'acqua. E metti giù una ricettata. Cinquanta grammi di pasta e una piccola insalatina. A metà pomeriggio ho dieci mandorle oppure una frutta a scelta. Un'anguria è possibile. No, assolutamente. Un frutto. No, una mela, una pera, o le mandorle o la pera. Un frutto piccolo. Devo essere pure piccole. Piccole, sì, 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 assolutamente. Poi la sera una fettina di pollo, 70 grammi di pollo. 70 grammi? 70 grammi di pollo. E se io vado da macellare e ci dico 70 grammi di pollo, quella diceva, ma che c'è invitate tutto questo pollo? Vabbè, lei comprerà una bella fetta di pollo e poi se la porziona due gocce di olio. Tutto questo olio non viene troppo a San Marato? No, 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 è una piccola insalatina. Ecco, insalatina scondita proprio. Questo dal lunedì al sabato, la domenica giorno libero. Oh, questa è la bella notizia. Cioè io domenica posso mangiare tutto quello che voglio. No, lei può soltanto bere acqua dalla mattina alla sera. Bene? Ma scusi, ma almeno la sarda? No, 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 acqua naturale, temperatura ambiente. La rubina. Assolutamente, sì, sì. Mi faccia questa dieta. E prima deve pagare la visita. Ah, già, no, ma scusi. Avendo sentito la dieta, quante? 150. 150, sì. Ecco qua, bene. Sì, allora, le preparo la dieta? Non ci bisogna. Come no? Non sento. Siccome lei per dire quattro minchiate si è preso 150 euro, a me mi è passato l'appetito. A questo punto ci arriva la palermetà. Mi è passato l'appetito con 150 euro che si piglia buona visita. Dottor Miladeffio Grasso. Ma... Grazie a tutti.